È evidente che c'è stato già un gran lavoro dal 2010 in poi, che hanno fatto molte regioni, non tutte, ma una gran parte l'hanno fatto. Noi siamo stati tra quelle. Nei dati che vedete anche di comparazione delle regioni italiane, delle regioni campane, è sempre tra le ultime regioni in termini di cosiddetti costi della politica. Insomma, i problemi di crisi della campagna sono così evidenti che il dovere nostro è intervenire prima degli altri. E questo percorso continua con il Consiglio. Il Consiglio oggi presenterà, i consiglieri, i gruppi presenteranno delle misure ulteriormente forti di riduzione dei costi della politica. E credo che sia un segnale proprio nella direzione che abbiamo imposto nel 2010. Considerando, io voglio dirlo a onor del vero, perché diciamo sempre che critichiamo le giunte precedenti, le amministrazioni precedenti, devo dire che in parte le amministrazioni precedenti avevano comunque un assetto istituzionale che, comparato allora a livello delle regioni italiane, non era certo tra le regioni che spendevano di più, anzi, era già allora, a Campania, erano tra le regioni che spendevano o meno sui costi della politica. Quindi abbiamo lavorato già su un terreno abbastanza possibile, però abbiamo fatto, chiaramente dal 2010, molte azioni molto più incisive. Tempo cambiava. Tema serio che dobbiamo affrontare nelle prossime settimane con il governo. Io vengo dalla conferenza dei presidenti delle regioni a Roma, ho fatto un po' tardi per questo. Abbiamo condiviso stasera i presidenti delle regioni presenti, io sono qua, ma insomma sono con loro, con Trerano il capo dello Stato e il sottosegretario Catrica là, il presidente Monti è stato sentito per telefono, lui è in America, in Stati Uniti, per avviare con il governo un'azione condivisa di sistema paese che possa definire, una volta per tutti, in maniera omogenea, per tutte le regioni italiane, quali devono essere i costi della politica e delle istituzioni, in questo caso parliamo delle istituzioni, chiaramente. E quindi è un discorso di trasparenza. Un tema fortissimo è quello, chiaramente, anche quello che va speso deve avere una trasparenza negli atti, quindi deve essere messo tutto in rete, deve avere un suo controllo esterno attraverso revisori, strumenti chiaramente di controllo che sono quelli propri della pubblica amministrazione.